Ciao a tutti, sono Michele Canistraro, il cannibale, sono qui a moto.it perché la mia passione è la moto. Io ho partecipato a dei campionati anche a livello mondiale, ho fatto il campionato del mondo supermoto come Wildcar in Italia, in Francia. La mia vittoria più bella a Masterchef con le rane, non l'avevo mai fatte, ma ho tirato fuori un grandissimo piatto, infatti ho vinto la prova, quella è una delle mie vittorie più belle. Se avessi Valentino Rossi a cena, io sparerei qualcosa di molto strong, faccio sgarrare, un piatto a base di carne, arrosti. Ecco, più che Valentino magari non cairò, che lo vedo uno che rispecchia un po' anche il mio carattere, siamo tutti siciliani, vorrei fargli, non so, un qualcosa di siciliano, però rivisitato. Anche se non è una vittoria, la gara che ricordo di più al campionato europeo, che qua lo vediamo, una categoria open all'interno del campionato mondiale supermoto, quella è quella che ricordo di più. È più bello andare in moto cucinare? Questa è una bella domanda, perché dipende dalla voglia che hai. Penso proprio andare in moto, ragazzi. C'è sempre una competizione in tutto quello che faccio, sempre. Anche quando faccio le gare con mia figlia non la faccio mai vincere. Devo sempre vincere io.